La vittoria di Anna Maria Casini a Sulmona non è mai stata in discussione sin dal primo turno, battuto con distacco abissale il candidato del centro-sinistra Bruno Di Masci, che si presentava senza il simbolo del Partito Democratico. Tra la candidata di un raggruppamento civico ispirato dall'assessore regionale alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo e il già sindaco di Sulmona corrono 31 punti percentuali di differenza. Per Di Masci non ha pagato l'apparentamento quantomeno singolare con Forza Italia ed Elisabetta Bianchi, che tanto aveva fatto discutere anche nel centro-destra. Già dal primo turno era nettissimo il nostro vantaggio, abbiamo rischiato di superare già in quella fase la soglia del 50%, ciò non è stato, abbiamo dovuto affrontare anche il ballottaggio, un periodo in cui si sono accese delle polemiche, secondo me anche eccessive, troppe bugie, troppi veleni, ma non fa niente, adesso siamo arrivati, c'è stata una riconferma nettissima, abbiamo sicuramente doppiato il nostro... Abbiamo doppiato i nostri competitori che le hanno provate proprio tutte, le hanno provate proprio tutte, ma noi abbiamo dimostrato di essere più forti, Sulmona vuole cambiare, vuole Anna Maria Casini, vuole la sua squadra e vuole la Sulmona che vuole girare pagina! Il risultato della città ovidiana è destinato ad avere ripercussioni anche sulla politica regionale. Questa è una vittoria straordinaria, dicevo prima, perché finalmente si volta pagina, si volta pagina per sempre, inizia un'epoca nuova, questo territorio ha voglia di cambiare, ha voglia di reagire, lo ha mostrato con tanto coraggio e tanto cuore. Anna Maria è stata la giusta interprete di quella che è la volontà di un territorio che grida la voglia di cambiare, e adesso credo che la risposta di Anna Maria e della sua coalizione sia quella di formare immediatamente la giunta, spero nel giro di una settimana, ma ne sono convinto.